Si è disputato domenica a Favara il campionato interprovinciale di kickboxing under 18 organizzato dall'Axi alla competizione ha preso parte anche alla scuola licatese Tana della Tigre diretta dal maestro Biagio Nogara e sono arrivati dei piazzamenti lusinghieri con quattro primi posti e tre secondi posti. Sul gradino più alto del podio si sono piazzati Alessio Corvitto 10 anni, Calogero Amato 7 anni, Kevin Incorvaia 11 anni e Giuseppe Falzone 11 anni, tutti in gara nella categoria semi-contact. I tre secondi piazzamenti sono stati invece raggiunti da Alessandro Oliverio 8 anni e Angelo Lombardo 7 anni che hanno gareggiato anche loro nel semi-contact. Luigi Licata, il più grande del gruppo licatese con i suoi 17 anni, ha centrato invece il secondo gradino del podio nel light contact. Al termine della manifestazione la cerimonia di premiazione con coppe e medaglie per tutti gli atleti che hanno preso parte alle gare. La Tana della Tigre si conferma pertanto in un ottimo momento e sta iniziando a centrare buoni risultati anche con le giovanissime leve, anche se a questa età il fattore vittoria è un aspetto secondario. La cosa più importante era che i nostri ragazzi si divertissero e passassero una sana giornata di sport, ci ha dichiarato il maestro Biagio Nogara. Fa piacere senza dubbio aver portato a casa dei primi e secondi posti, ma in questa fase della crescita contano di più l'impegno e la passione che i piccoli ci mettono negli allenamenti quotidiani.